Leggevo sull'Ansa la dichiarazione del ministro Lorenzin. Non sono contraria alle tasse sul tabacco perché è uno dei metodi adottati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per dissuadere le persone dal fumo. Le tasse sul tabacco sono tasse contro la morte. Per far diminuire i consumi di sigarette, ha detto il ministro, si usa qualsiasi arma. Infatti la battaglia contro il tabacco è la prima battaglia di salute, considerando che sono proprio i più giovani il bersaglio del mercato del tabacco. Allora il problema per me è intanto vedere se questo tipo di comportamento, cioè se effettivamente aumentando il prezzo, si riduce il consumo. Il consumo si riduce in un bene voluttuario dal quale è facile smettere o può essere più facile smettere. Ma se consideriamo il fumo come l'alcol, come il gioco, come la droga, come delle tossicodipendenze, come delle dipendenze, allora diciamo che la dipendenza è qualcosa che ti condiziona comunque ad un determinato comportamento al di là del prezzo. Quando tu sei dipendente, i soldi per comprarti quello di cui hai bisogno e non puoi farne a meno, in qualche modo li trovi. Come li trovi? Togliendoli ad altre spese e quindi spostando, non so, dal cibo al fumo o dal cibo all'alcol o dal cibo al gioco, togliendoli alla tua famiglia per esempio, oppure cercando di delinquere in determinati casi. Ti procuri i soldi per poi procurarti quello di cui hai bisogno. Non è così automatico che aumentando il prezzo si riduca il consumo. Se il consumo di un determinato bene corrisponde a un bisogno forte, quel bisogno verrà prima di tutti e lo si pagherà anche se costerà di più. Primo punto. L'altro punto è comunque il conflitto di interessi che c'è tra lo Stato, che vende, guadagna dalle sigarette, voglia incrementare il suo guadagno, far cassa aumentandone il prezzo, con la giustificazione che in questo modo fa della prevenzione e quindi fa del bene, riduce i tumori, insomma riduce tutta la patologia causata dal fumo, come se fosse solo una questione di prezzo, se basta aumentare il prezzo per ridurre il consumo trovando questo tipo di proporzione. Ma essendoci poi un conflitto di interessi succede che se si riduce il consumo si riduce anche in teoria il guadagno e nel momento in cui si è basato il guadagno, si è considerato questo guadagno come necessario per coprire determinate spese da parte dello Stato, diventa difficile capire la buona fede di questo provvedimento. Insomma, dobbiamo considerare se il dipendente da fumo, come il dipendente dall'alcol, come il dipendente dal gioco, in realtà è una persona malata, è una persona che ha bisogno di essere curata per vincere questa tossicodipendenza, oppure c'è bisogno di interventi più radicali, più efficaci per quanto riguarda la prevenzione di quelli che sono fatti ora. Quindi se è una persona malata, o se sono persone malate, come risultano essere anche nel DSM le persone affette da dipendenza, noi, secondo quello che dice la Lorenzin, aiuteremo queste persone facendo pagare loro un prezzo maggiore per la loro dipendenza. Non mi sembra una buona scelta. Il malato va aiutato alleggerendo il costo per la dipendenza e intervenendo su fattori che incidono sulla dipendenza, non facendogli soltanto pagare un prezzo maggiore. Che vuol dire poi avvicinarsi a una specie di proibizionismo, insomma. Perché se esasperiamo questa tendenza, se facciamo pagare il costo delle sigarette, non so, come è previsto, tipo in Australia, 30 euro al pacchetto, che vuol dire in un mese 900 euro, quando gli stipendi pochi sono di 1000 euro per chi lavora, evidentemente non lasciamo più al tossicodipendente una scelta di procurarsi le sigarette. Ma lo costringiamo a rinunciare. Ma lo costringiamo sempre che sia capace di rinunciare. Ma se fosse capace di rinunciare avrebbe già rinunciato. Il problema è che non è capace di rinunciare. E allora è come se praticassimo una specie di proibizionismo. Lo costringeremmo a procurarsi quello di cui ha bisogno o crede di aver bisogno in altri modi. E abbiamo visto che il proibizionismo non funziona molto bene. Bisogna pensare ad altri modi attraverso i quali prevenire il consumo e le dipendenze. Mentre non sempre quando c'è un conflitto, mettiamo anche il caso del gioco per esempio, c'è una grande attitudine. Quando si è capito che si possono fare soldi da parte dello Stato attraverso la passazione di un determinato vizio e quindi si considera che affetto da questo vizio come un vizioso, non come un malato. Perché il vizioso allora lo posso anche punire, no? Quello si comporta male e lo punisco. Mentre in realtà chi è affetto da un vizio è anche lui una vittima. Una vittima di un condizionamento, una vittima di una situazione di povertà, attraverso una vittima della speranza. Insomma una vittima di un certo tipo di società, del benessere, che induce questi comportamenti. E infatti questi comportamenti li vediamo molto aumentati adesso rispetto a 50 anni fa o a 100 anni fa, no? Li vediamo aumentati in un certo tipo di società rispetto a un altro tipo di società che poteva essere quella di 50-100 anni fa. E non so, mi vengono in mente anche le multe, no? Cioè, diminuire gli incidenti stradali attraverso cosa? Attraverso l'inaspiramento delle sanzioni. Non tanto un'educazione stradale, una viabilità, eccetera, no? Mettere il rilevatore di velocità a 50 all'ora in una strada in cui si può andare benissimo a 80, insomma, no? Perché? Perché c'è bisogno per i comuni di far cassa. E allora, quando questo diventa un bisogno, quando c'è un conflitto di interesse tra il bisogno dei comuni di far cassa, che non ci sono soldi, e quindi di procurarseli, vuol dire fare in modo che la gente trasgredisca le norme anche quando non vorrebbe trasgredire. Vuol dire creare delle trasgressioni anche dove non ci sono. Aver bisogno di far cassa sulle spalle della gente e quindi sempre sulle spalle dei più poveri, perché i più poveri poi risentono molto di più delle sanzioni, della punizione, dell'aumento dei costi. I più ricchi se lo possono anche permettere, ma i più poveri spesso, magari per una sanzione, si rovinano o vengono molto disturbati nella loro economia di sussistenza. Rispetto all'assurdità di questi comportamenti, se io so che che un farmaco, per esempio, è nocivo alla salute, c'è un farmaco che viene messo in commercio e a un certo punto questo farmaco scopre che ha degli effetti collaterali abbastanza importanti. Che però è un farmaco che viene usato normalmente, no? Cosa fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità? Cosa fa poi lo Stato rispetto a questa cosa? Lo toglie dal commercio. Se questo farmaco è nocivo alla salute, invece che benefico, cercherà di toglierlo dal commercio. Non lo fa pagare di più, non lo tassa di più, perché significa ammettere comunque che fa male. Sarebbe assurdo ammettere che faccia male e farlo pagare di più perché lo si consumi di meno. Se questo farmaco fa male, lo si deve togliere dal commercio. Non c'è una logica alternativa. Da questo punto di vista, penso per esempio, non so, mi viene in mente quello che è successo con la Fidia, per quello che riguardava un farmaco, il ganglioside, c'era un farmaco che era molto usato, che aveva fatto della Fidia, a casa farmaceutica, una delle case che avevano il più alto fatturato nel mondo. Nel momento in cui si è scoperto che il farmaco su cui basava la gran parte del suo fatturato, cioè il cronassial, che serviva per le neuropatie periferiche, e in qualche modo si sapeva che non faceva male, che non dava effetti collaterali, nel momento in cui si non sono scoperti degli effetti collaterali, anche in pochi casi abbastanza importanti, il farmaco è crollato. non è più stato venduto per conto suo, non c'è stato bisogno di aumentarne la tassazione, di aumentarne il costo, e la Fidia di conseguenza è crollata, non funziona. cioè, o si ammette che il fumo fa male, provoca il cancro, e allora a questo punto si cercherà in tutti i modi di toglierlo il fumo, non di farlo pagare di più. Farlo pagare di più non è il modo per toglierlo. Per toglierlo bisogna fare, essendo una situazione complessa, una politica sanitaria diversa, fatta di prevenzione, di prevenzione primaria, di educazione, si è visto che anche lo scrivere, cioè mettere le scritte, lo spaventare, nel caso delle tossicodipendenze, non funziona. Ma non funziona, semplicemente perché la gente che fuma o la gente che si fa lo sa dei rischi che corre ed è consapevole e lo fa lo stesso, perché il bisogno della dipendenza è più forte della considerazione in termini di salute. Chi si lascia prendere dal fumo eccessivo o dalla droga sa comunque che mette in rischio la sua salute. non ha bisogno di essere spaventato con la scritta nel pacchetto di sigarette. Questa, semmai, potenzierà la sua scelta perché lo farà sentire superiore a quel blocco, a quel condizionamento. Allora, altri sono i sistemi da inventare e ne vedo proposti in tanti tipi per diminuire il consumo di sigarette e quindi la patologia polmonare prevalentemente legata al consumo di sigarette. Non certo, secondo me, quella di aumentarne il costo. Questo è un pretesto che serve per far cassa. tanto è vero che poi, insomma, l'aumento delle accise sui tabacchi serve per finanziare la manovra aggiuntiva richiesta dall'Europa al nostro governo, insomma. No, allora, se si va a vedere quello che c'è dietro, la cosa fondamentale è questa. Bisogna fare una manovra aggiuntiva e richiedere più soldi ai contribuenti. Dove andare a prendere più soldi dai contribuenti? Dove c'è il vizio, in qualche modo? Allora, consideriamo chi ha una dipendenza, chi, tra virgolette, è ammalato di una dipendenza e lo consideriamo come un vizioso. Quindi lo consideriamo come uno che può pagarsi di più il proprio vizio, che va punito perché è vizioso, non perché è malato, perché se lo considerassimo malato l'atteggiamento sarebbe diverso. L'atteggiamento sarebbe quello di una cura e prima ancora della cura quello di una prevenzione e la prevenzione non è quella di aumentarne il costo sapendo che con l'aumento del costo questo magari rinuncerà al mangiare e quindi gli faranno ancora più male le sigarette per potersi pagare il vizio. C'è un gioco e secondo me c'è anche un'ideologia sotto, un modo di pensare a queste cose che ha in sé un vizio di fondo. Non ci deve essere secondo me un conflitto di interessi tra lo Stato e colui che lo Stato vuol proteggere e che deve essere protetto da uno Stato per bene. Non ci deve essere un conflitto di interessi quindi lo Stato non deve guadagnare sul vizio dell'altro sapere di avere da questo vizio una fonte di reddito lo deve curare lo deve prevenire. Il detective in un giallo non dovrebbe mai essere il colpevole una delle regole è che chi cerca il colpevole non dovrebbe essere mai lui stesso il colpevole come regola per chi scrive nella letteratura gialla. Insomma, lo Stato che dovrebbe proteggere i cittadini non dovrebbe essere nello stesso tempo colui che invece li tartassa soprattutto quando sono malati e quando ormai la patologia questo tipo di patologia della dipendenza è considerata a tutti gli effetti malattia.